Padre nostro che sia nei cieli, sia sanitario il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e la sua terra, lascia la pace del nostro amico di piano, che metti a noi i nostri detti, come anche noi non mettiamo i nostri decultori, e non ci vengono a cantonare di una tentazione, di una libera scelta umana, Dio Onipotente ed Eterno, che guidassi il nostro Padre Abramo, Esule, dalla sua terra e dalla sua stia, accompagna e guida il cammino di questi fratelli, dona loro la tua benedizione, conforto e sostegno lungo la via, difesa nei pericoli, perché tornino felicemente alle loro case. Adesso, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Ave o Maria, grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Senno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, e nell'ora della nostra morte. Santa Ristretta, prega per noi peccatori, adesso, e nell'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, e nell'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre, non le sede, come faccio anche a ciab Regional Limpi, ma all'ora della nostra vita, però l'ora della nostra morte, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, dalla nostra morte, la possibilità di conoscità internazionare. Grazie. 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 Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie a tutti. 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 Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai, Santa Maria del cammino sempre sarà con me, Vieni, oh Madre, in prezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te, persona di libertà. Quando qualcuno ti dice, non la mai cambierà, lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità. Vieni, oh Madre, in prezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te, persona di libertà. Lungo la strada la gente, chiusa in se stessa va, offri per primo la mano a chi è vicino a te. Vieni, oh Madre, in prezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te, persona di libertà. Quando ti senti ormai stanco, e sembra ai muti di andare, o vai nel santo cammino, un altro ti seguirà. Vieni, oh Madre, in prezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te, persona di libertà. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, che venga il tuo regno, sia patta la tua volontà, come il cielo, così terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li meritiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla detenzione, ma liberaci dal male. Ave, oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave, oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave, oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Uno. Uno. Sento quattro. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 1, 1, 1, vai, regine, regine, piano, 1, 1, 1, 1. Maria piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Grazie, 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 grazie. Maria piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Padre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amén. Ave Maria piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Padre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amén. Ave Maria piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Padre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amén. Santa Maria, Padre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amén. Santa Maria, Padre di Dio, prega per noi peccatori. Santa Maria, Padre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amén. Santa Maria, Padre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Santa Maria, Padre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Santa Maria, Padre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Santa Maria, Padre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Padre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Padre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Padre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Padre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Padre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Padre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Padre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Padre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Padre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Padre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Padre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Padre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Padre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Padre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. e non abbandonati dalla pericazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, su sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, su sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. In postazione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, su sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, su sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie. 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 Taghi. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.